Fare un bilancio con i conti in ordine è già stata un'impresa quasi impossibile, nel senso che abbiamo approvato con una larghissima maggioranza un bilancio che chiude il 2019 con i conti in ordine e fa una previsione 2021, speriamo abbastanza realistica perché si chiama bilancio di previsione, in una fase di difficoltà dei comuni che fanno parte dell'Unione e di incertezza anche sul piano dei trasferimenti da parte della regione soprattutto, mentre la Toscana e l'Emilia Romagna mettono una barca di risorse sulle unioni di comuni, sulle fusioni, nelle marche non mi pare che ci sia questa volontà politica istituzionale e dal punto di vista del trasferimento delle risorse statali che ahimè sono molto contenute, quindi diciamo che è stato importante riuscire a far quadrare i conti, a mantenere i servizi, a mantenere aperti tutti i servizi e a pagare gli stipendi con una situazione di normalità. A gennaio ridefiniremo obiettivi e strategie dopo gli stati generali che abbiamo tenuto a Monticicardo con un piano strategico insieme all'Università di Urbino, ad altre realtà territoriali, ad altre esperienze anche in giro per l'Italia, sperando di avere il bacino, di aver superato il Covid e di poter progettare il futuro con più ottimismo, più fiducia e più speranza.